sport piceno game presenta il calcio la vera magia passione che brucia tra campo e tifosi con passione e calcio siamo tutti gloriosi apriamo la puntata parlando dell'ascoli calcio ascoltando l'intervento della giornalista valeto rosa passione calcio situazione molto delicata in casa ascoli ne abbiamo parlato già nelle settimane scorse i due pareggi conquistati contro campo basso e arezzo hanno quantomeno frenato la lunga striscia di sconfitte consecutive che ha portato l'ascoli nelle zone basse della classifica non l'ha migliorato certamente la posizione gradatoria ma quantomeno ha un po' risollevato l'umore della piazza che continua certamente a contestare la presidenza società bianconera ma che comunque intravede uno spiraglio di ottimismo soprattutto dopo la bella prova di arezzo senza la l'ingenuo fallo di di a japong che ha che è costato il calcio di rigore che ha portato poi al pareggio conclusivo la gara poteva essere portata a casa con una vittoria che sarebbe stata molto molto preziosa ma quello che ha un po' confortato un po' tutti è stato proprio l'atteggiamento della squadra molto accorto molto attento una squadra un po' più quadrata dove si è rivisto anche un buon tremolata nel secondo tempo che ha poi servito l'assist per il gol di corazza insomma qualche piccolo qualche piccola luce no in fondo a questo tunnel si è cominciato un po' a vedere mister di carlo ha anche rispolverato il difensore tab char che certamente potrà essere di aiuto in questa seconda parte del girone di andata e poi anche nel nel ritorno quando si riavrà si rivedrà anche attaccante francesco forte insomma al 10 di di novembre non si può certo pensare di essere già retrocessi di abbandonare la barca alla deriva bisogna trovare qualche spunto di ottimismo io credo che certamente a questa squadra manca la vittoria una vittoria che non arriva da diverse settimane dalla gara in trasferta contro il milan futuro e che questo abbia compromesso certamente il cammino di una formazione che ha le sue difficoltà le sue pecche le sue carenze anche tecniche perché sono calciatori che certamente non sono all'altezza di questo campionato sono arrivati dalla serie di senza la dovuta preparazione ad un campionato complesso anche se non eccessivamente di qualità come il girone b della serie c ma insomma ci sono calciatori che possono comunque cambiare le sorti di questo ascoli già adesso ripeto manca probabilmente anche un pizzico di fiducia un pizzico di entusiasmo e anche un po di buona sorte perché in certe situazioni certamente oltre alle difficoltà tecniche e tattiche si è aggiunta anche un po di sfortuna il fallo di Aja Kong rientra in questa casistica certamente il giocatore di esperienza come l'ex Sassuolo certamente poteva evitare questo contatto l'attaccante dell'Arezzo è stato bravo a mettersi davanti e poi si sono un po' inciampati con le gambe non è stato un rigore nettissimo ma neanche un fallo su cui l'arbero poteva passare sopra secondo me la decisione non è stata così sbagliata certo è che l'Ascoli ora deve ritrovare il successo, deve ritrovare i tre punti l'avversario che arriverà domenica al Del Duca e il Ponte d'Era non è certo una squadra da sottovalutare è una formazione che è davanti in classifica all'Ascoli e che comunque ha in mister Leonardo Menichini un allenatore molto reparato, molto attento a questo campionato di Serie C un volto che noi conosciamo bene, è stato il giocatore dell'Ascoli, è stato anche vice di mister Carlo Mazzone conosce bene Ascoli e tanti amici qui ad Ascoli e ha sempre reso la vita dura, la vita difficile alle formazioni bianconere che poi ha incrociato nel corso degli anni quindi sarà una partita molto complicata credo che mister Mimmo di Carlo potrà contare praticamente su tutta la rosa a disposizione avrà solo l'imbarazzo della scelta e probabilmente l'unico dubbio sarà quello se schierare tremolata dall'inizio o preferire ancora questa formazione che prevede Marsura nella linea mediana Japong spostato anche lui sull'esterno a centro campo una Japong che ripeto al di là dell'errore commesso in occasione del rigore non ne aveva neanche giocato così male e probabilmente questo ha dato anche un po' di compattezza a tutta la squadra ripeto, serve un po' di ottimismo, un po' di fortuna e serve una vittoria io mi rifiuto di pensare all'inizio del mese di novembre a una squadra che si è già retrocessa a fasciarmi la testa prima di romperla ci sono margini per poter recuperare i punti a disposizione sono ancora tantissimi certo ci aspettovamo tutti un campionato diverso pensare che la partita a Scoli-Ponte Terra potesse essere una sfida già a salvezza all'inizio del campionato sembrava una follia eppure siamo qui, siamo al terzo ultimo posto in classifica con tanti tanti problemi anche a livello ambientale perché è vero gli ultras sono tornati al del Duca ma certamente la contestazione, i cori contro i giocatori, le bombe carta, gli episodi che ci sono stati al Picchio Village tutte situazioni che certamente non danno serenità ad un ambiente che è in ebollizione già dalla partita dello scorso anno con il Pisa che segnò poi la retrocessione ma insomma dobbiamo anche appigliarci a un po' di ottimismo io spero insomma che domenica si possa ritrovare la vittoria e continuare a lavorare a piccoli passi per risolvere piano piano anche la graduatoria Passione d'Alcio Siamo una puntata ascoltando l'intervento del giornalista Alessandro Mannocchi Passione d'Alcio Secondo pareggio consecutivo per il Picchio dopo quello tenuto in casa contro il Campobasso è pari e patta anche in Toscana, in quel di Arezzo una partita nella quale avrei messo la firma ad inizio gara un pareggio contro l'Arezzo, una squadra che è in pienissima zona playoff però per come si era messo il match insomma un po' di amaro in bocca lo lascia abbiamo visto personalmente un Ascoli compatto ben messo in campo che non ha mai sofferto la formazione di casa che ha fatto un tiro in porta se non ricordo male dove è dovuto intervenire bene Livieri un Ascoli che ha fatto una buona partita, ha fatto il suo forse a mio avviso la miglior partita giocata dal Picchio da quando è scesa in Serie C quindi da quest'anno purtroppo dispiace dirlo ma l'Arezzo ha approfittato dell'unica grossa ingenuità della squadra bianconera firmata a Chapong dispiace dirlo ma purtroppo un giocatore della sua esperienza che qualche anno fa calcava i campi di Serie A ha abboccato possiamo dirlo abboccato pienamente perché il rigore è alquanto discutibile nel senso che magari a velocità normale si poteva concedere ma poi riguardandolo è molto molto doppio quel rigore purtroppo giocando in trasferta l'arbitro di solito fa di tutto per cercare di aiutare i padroni di casa e così è stato un leggerissimo contatto sono costati due punti alla formazione bianconera che era passato in battaggio nella ripresa con un cioccolatino di tremolata entrato al posto di Silipo si è letteralmente inventato questo assist che Corazza con una esecuzione pressoché perfetta ha messo in rete portando in vantaggio l'Ascoli un particolare che ho notato al gol di Corazza tutta la panchina dell'Ascoli ha invaso il campo è andata ad abbracciare Joker, il nostro bomber questo è un segnale importante un segnale che nonostante la classifica deficitaria e tutto l'ambiente è molto significativo a mio avviso è un segnale che sta a significare che il gruppo c'è e non è una cosa da poco mi sento di fare i complimenti al mister Di Carlo che piano piano sta facendo ingranare questa squadra la squadra stessa due punti consecutivi due piccoli passettini verso diciamo quello che è l'obiettivo primario cioè la salvezza e io sono del parere che la qualità alla lunga paga penso che giocatori come Tremolata e Corazza in questa categoria non li abbia nessuno quindi diamo tempo a Tremolata perché Corazza sta ampiamente dimostrando di essere il nostro bomber diamo il tempo a Tremolata che secondo me potrebbe essere decisivo davvero per per le sorti bianconiere diciamo ecco speriamo la prossima in casa contro il Ponte Terra una diretta concorrente il Ponte Terra ricordiamolo a 12 punti l'Ascoli ne ha 10 speriamo in quella circostanza di riuscire a sfatare il tabù che attanaglia la squadra ossia quello di non vincere e magari ottenendo i tre punti in casa riusciamo a dare una svolta al nostro campionato passione dalcio osserviamo puntata parlando del campionato eccellenza femminile Marche e della quarta giornata disputata dalla San Benedettese Caccio ad opera il servizio di Chiara Poli passione dalcio altra vittoria importante quella per le ragazze della San Benedettese femminile in questa quarta giornata del campionato di eccellenza Marche le rosso-blu di Mr. Pompei vincono di larga misura tante reti realizzate contro il Caldarola una partita che sicuramente ammarca San Benedettese dall'inizio alla fine anche se le maceratesi si sono fatte vedere in avanti in qualche occasione soprattutto nel finale ottima la prestazione soprattutto della fase offensiva adesso la San Benedettese chiama quota 6 purtroppo sono stati decurtati i tre punti quelli della gara contro la maceratese vedremo cosa dirà la giustizia sportiva nelle prossime settimane la prossima partita comunque vedrà le rosso-blu impegnate contro il Fano al campo di Petrella di Ripatanzone alle ore 15 di domenica 10 novembre la puntata di Passione Calcio termina qui via appuntamento alla prossima puntata se vi è piaciuta mettete un like se ritenete che dobbiamo proseguire mettete un like e seguiteci sui nostri social spartice no game ha presentato il calcio la vera magia passione che brucia tra campo e tifosi con passione calcio siamo tutti gloriosi